Musica 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 La potenza della rosiglia, le vogliono bene, e con me le vogliono bene, Maurizio Galli al Passo, Maurizio Piazza del ricottiere, Pizzalena, dalla città, Claudio Recollo, so che è alla Consol di Passo e Piano, e alla Consol invece, il Mie Di Natale, un applauso per tutti! La mia sorpresa, è che con la mia gente, sta bellissimo, è una patia, voglio dire, non lo faccio tutti quegli anni fuori, il gioco di Veneto di voi, vive il Veneto!